è quello di parlare a vanvera per molti perché voglio dire è chiaro che se ognuno di noi facesse il proprio lavoro nel miglior modo possibile probabilmente staremmo meglio ma lo sport preferito di molti è parlare senza sapere entro nel merito immediatamente c'è un dpcm che prevede o piace o non piace di evitare gli assembramenti punto ok su questo non c'è alcun dubbio bisogna rispettarlo o stai con tarro o non stai con tarro io non sto con tarro non me ne frega di nessuno ma sto con quello che devo fare perché è il mio dovere e quindi a quelli che stanno con tarro io dico complimenti andateci pure a dormire con tarro ma non so che farvi